Vittoria per l'Olimpica Basket. Nella non aggiornata del campionato di Serie C e Silver, i ragazzi giallo-blu hanno battuto in trasferta la New Basket Lecce con il punteggio di 67-57. L'inizio della gara è avvincente da entrambe le parti, con i ragazzi di coach Cesbondo che lottano su ogni pallone e cercano di tenere a testa ai padroni di casa che sono sempre sul pezzo. Ed i primi due quarti i distacchi sono minimi. Purtroppo ci si mette anche la sfortuna sul fronte degli infortuni per l'Olimpica. Dopo un terzo quarto in cui Walker, Ocon e Uovolo ci hanno messo tutto il possibile, arriva come un macigno l'infortunio alla caviglia per cose in mode Giorgio che allunga la già invarcita lista dopo Romano e Andrea Colapietro. Nonostante l'ultimo quarto c'è l'allungo finale dei ragazzi Ofantini che con un più dieci di tutto rispetto si portano a casa vittoria e punti pesanti. Ora settimana di intensi allenamenti per preparare la sfida casalinga contro Fasano sconfitta in casa per 83-72 dal Nardò.